Ve lo devo proprio dire, The Last Ride, il documentario sull'Undertaker, è stato veramente un lavoro ben fatto e una delle parti che ho apprezzato di più è stata quando Undertaker ha ammesso che Paul Bearer, il suo manager storico, gli ha permesso di avere un inizio di carriera fantastico, proprio perché lui era incapace di relazionarsi col pubblico e con i fan visto la gimmick molto particolare, ovvero dell'uomo morto, il Deadman, e riflettevo sul come la figura del manager negli anni Ottanta fosse veramente fondamentale per la formazione dei lottatori, quasi tutti i lottatori di rilievo avevano un manager, addirittura poteva esserci un manager che gestiva più lottatori o nuovi o che diventavano di rilievo da lì a poco tempo, basti pensare che ce l'aveva André The Giant, l'ha avuto Hulk Hogan, ce l'ha avuto Macho Man Randy Savage, insomma ce l'hanno avuto, l'hanno avuto proprio tutti, addirittura grandi lottatori anche come Teddy Biase, si riciclavano come manager per poter magari lucrare sui lottatori e vincere, quindi creavano squadre forti. E nel presente invece, soprattutto in WWE, la figura del manager secondo me non viene esattamente valorizzata, certo ci sono, ci sono principalmente ragazze che si occupano di ragazze, mi viene in mente Selina Vega con i messicani, piuttosto poco tempo fa, prima che se ne andasse dalla WWE c'era Lana con Rusev o Bobby Lashley, adesso Bobby Lashley ha fatto la scelta intelligente di mettere al proprio angolo un lottatore veterano come MVP, ma è forse uno degli unici che sta facendo e prendendo questa procedura, tra l'altro in una parte della sua carriera già avanzata, avanzata. Mi viene da pensare come lottatori come Battista, Randy Orton, piuttosto che tanti altri, abbiano avuto indirettamente manager come Ric Flair e AAA, che oltre che a parlare per loro gli spiegavano i trucchi del mestiere in macchina e gli spiegavano i trucchi del mestiere sul ring mentre combattevano magari in squadra con loro. E tutti questi lottatori sono o l'Hallfamer o futuri o l'Hallfamer, e quindi tutti, proprio tutti, dal Kogan, Andre the Giant, a Yokozuna, tutti i più grandi del passato, hanno avuto una figura di rilievo che gli guardasse le spalle e parlasse per loro quando necessario. Voi direte, beh, nel presente c'è sicuramente Brock Lesnar col Paul Heyman, Paul Heyman è fantastico, forse uno dei migliori manager di sempre, uno dei più longevi, ma questa è una cosa destinata a finire, almeno per quanto riguarda Brock Lesnar, perché la sua carriera è verso il tramonto. Ma adesso, parlando del presente, chi può vantare un manager professionista, con magari un ex storico lottatore esperto in ogni angolo e increspatura del mestiere, pronto a svelare i trucchetti al suo protetto? Chi tra i lottatori del roster WWE attualmente ha questa arma nella propria tasca, nascosta? Nessuno! E come potrebbe andare la carriera per lottatori come Braun Strowman, piuttosto che Aleister Black, piuttosto che Cesaro, piuttosto che tanti altri, se avessero un manager professionista al loro angolo? Beh, io vi invito a riflettere su questo, forse sarebbe il caso di far tornare in WWE manager professionisti.